Ciao 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 questo video! Allora, volevo salutare dei ragazzi che mi hanno chiesto di essere salutati e quindi sono Massimo Pireddu Ciao 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 Massimo! Ciao Massimo Pireddu! Poi si gioca anche insieme? Allora, poi c'era Pro X, Pro X anche con lui, ho giocato a Fortnite alcune volte e lo saluto poi vi do ogni tanto i suoi video come voi ogni tanto che venite a giocare a Fortnite ogni tanto chi carica anche video vengo a vedere i vostri video sui vostri canali bravi 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 purtroppo a volte non tutti me li fanno commentare comunque vabbè poi devo salutare Lorenzo Denaro Ciao Lorenzo Denaro e poi voglio salutare anche Vani Vani, Manga Japan la saluto tanto perché viene a commentare sempre ogni mio video viene a commentare ogni mio video quindi la saluto tanto e la ringrazio tanto e comunque in generale ringrazio tutti quelli che ultimamente stanno giocando con me a Fortnite e tutti in generale però anche tutti i miei iscritti che continuano a seguire il mio canale a commentarlo, gli amici eccetera e allora io adesso sono qua in una parte del mio negozio e volevo dire volevo ricordare a tutti mi raccomando di indossare sempre la mascherina quando sei in pubblico quando siete a contatto con la gente lo sapete anche voi nei casi che vuole usata mi raccomando mi raccomando di indossarla di indossarla la mascherina perché vedete che qua il problema non è ancora diminuito c'è ancora un sacco di questo problema quindi mi raccomando mi raccomando quando fate come me io in negozio per esempio la tengo sempre quindi quando sono a contatto con i clienti e anche voi quando siete a contatto con altre persone insomma mi raccomando ciao da svideo